Buonasera, cominciamo ad allentrarci nel mondo del tè parlando della camellia sinensis, ossia della pianta del tè, questo è il suo nome botanico. Noi la troviamo coltivata come un arbusto, ma in realtà di per sé sarebbe un albero ad alto fusto, può raggiungere anche 10-15 metri di altezza se viene lasciata libera di crescere in natura. Tant'è che nello Yunnan, che è la sua regione d'origine, come abbiamo visto la volta scorsa, ci sono degli alberi secolari di camellia sinensis, anche di 2700-3200 anni. Però viene coltivata a mo' di arbusto, perché ovviamente per la raccolta, avere una pianta alta o avere un arbusto basso e magari sviluppato invece in larghezza, permette di poter raccogliere una quantità maggiore di gemme e di foglie. Quindi semplicemente vengono tagliate le gemme apicali in modo da inibire la crescita in altezza della pianta e favorire invece lo sviluppo in larghezza. Questa pianta si può riprodurre sia per seme sia per talea, in passato veniva riprodotta per seme, adesso si preferisce la talea, perché? Perché il seme genera sempre piante con un patrimonio genetico diverso da quello della pianta madre, ovviamente c'è una ricombinazione comunque del DNA. Mentre la talea è una sorta di clonazione, per cui le piante figlie saranno esattamente identiche alla pianta madre. Infatti si prende una fogliolina dalla pianta madre, si pianta nella terra, si aspetta che faccia radici, che cresca fino a 15-20 cm di altezza e poi si interra per poter poi ricavarne l'arbusto. Questo perché? Perché nel momento in cui si trova una pianta che sia resistente ai parassiti, sia resistente alle condizioni climatiche, abbia un'alta produttività, produca un tè di qualità, ovviamente si cerca di replicarla e quindi clonandola per altea, siamo sicuri di avere lo stesso patrimonio genetico e quindi avere anche la continuità produttiva di cui abbiamo bisogno. Questa qualità sicuramente dipenderà dall'ambiente in cui la pianta vive e quindi anche la bevanda stessa avrà caratteristiche organolettiche differenti al cambiare anche solo di uno dei fattori che può incidere sull'ambiente, quindi per esempio il suolo di coltivazione, le condizioni climatiche, l'esposizione al sole, la percentuale di umidità dell'aria. Quindi queste sono tutte variabili che poi produrranno una pianta con determinate caratteristiche organolettiche, determinati principi attivi e che quindi poi darà una bevanda di un tipo o piuttosto che di un altro. Le piante che crescono nelle zone tropicali e subtropicali sono quelle che avendo un clima di una temperatura ideale, con una percentuale di umidità, di sole, di pioggia ideali, danno la qualità migliore e i tè migliori vengono prodotti dalle varietà che crescono in montagna. La stagione di raccolta ce ne sono più di una durante l'anno, però la migliore è quella primaverile, quella in cui le gemme sono più di un colore verde scuro, più carnose, più morbide e anche ricche di aromi e di sostanze nutrizionali che poi ritroveremo nella bevanda. Quindi questo è il tempo balsamico della Camellia sinensis. Poi come tutte le piante che abbiamo visto anche quando parlavamo dello sfuso, potrà rimettere durante l'anno, in Cina lo fa più volte, quindi ci sono quattro raccolte, però la qualità sarà minore perché la concentrazione di principi attivi e di sostanze nutritive sarà inferiore. In Africa viene invece raccolta tutto l'anno perché il clima comunque costante ne permette la produzione continua. Le varietà di Camellia sinensis sono centinaia e sono classificate in vario modo. Diciamo che la classificazione più comune è quella cromatica, per cui avremo i tè rossi, i tè bianchi, i tè verdi, i tè verde azzurri, i tè neri e i tè gialli. Però possiamo dividerla anche per il tempo di raccolta, quindi avremo i tè primaverili, i tè estivi, i tè d'autunno e anche per il luogo di coltivazione, quindi i tè di montagna e i tè di pianura. La raccolta può essere fatta manualmente o meccanicamente. Manualmente ovviamente avremo la raccolta migliore perché l'operatore andrà a selezionare i germogli e le foglie che sono le parti che ci servono per avere un tè di qualità e a seconda della quantità che ne viene raccolta avremo diverse qualità di tè. Quindi si possono raccogliere soltanto i germogli, si può raccogliere un germoglio e una foglia, si può raccogliere un germoglio e due foglie, un germoglio e tre foglie, un germoglio e quattro foglie, un germoglio e cinque foglie. La raccolta meccanica o semi-meccanica ovviamente non può avere questa precisione e quindi sarà una raccolta un pochino più grossolana riservata a produzioni di una qualità comunque standard, mediocre, diciamo più adatta alla grande distribuzione, più adatta alla produzione dei filtri del tè. E viene fatta o perché ci sono delle zone comunque in cui la manodopera costa troppo, come per esempio succede in Giappone, quindi l'operatività manuale viene sostituita da quella meccanica a un costo inferiore o viene praticata come metodo abituale e questo succede per esempio soprattutto in India. Finita questa carrellata, questa panoramica sulle diverse tipologie di Camellia sinensis e la produzione e la sua raccolta, vi do appuntamento per la settimana prossima per addentrarci nelle caratteristiche chimiche della pianta, quindi i principi attivi che contiene, le proprietà che questa pianta ha e anche le sue controindicazioni. Vi ringrazio, vi auguro buona serata e ci vediamo domani per un nuovo video. Grazie!